sei negli Stati Uniti nel weekend di Wrestlemania sei un po' stupido se non vai a vedere quelli che sono tutti gli eventi che vengono fatti intorno tutti, almeno qualcuno e quindi quando c'è il weekend di all-in a Londra anche noi ci saremmo sentiti stupidi a non andare a vedere nulla cosa abbiamo fatto? abbiamo optato, abbiamo fatto delle scelte che sono state secondo noi giuste e ci hanno ripagato bene e una delle scelte che abbiamo fatto è stata quella il sabato quindi il giorno prima di all-in di andare a vedere l'evento di Eve in collaborazione con Tokyo Joshi Pro Wrestling vi racconteremo un po' della nostra esperienza di quello che è stato in realtà questo show e anche un pochino di alcune considerazioni che ovviamente abbiamo fatto pre e post che sono importanti anche che ci fanno un po' capire la dimensione in realtà del wrestling al di là delle major come possa essere effettivamente a nostra portata in modo molto più semplice molto più interessante di quello che magari molti immaginano intanto vi do il benvenuto a tutti in questo video in cui parleremo dell'evento congiunto di Eve Tokyo Joshi Pro Wrestling io sono Stefano una delle voci della toviela del ring una delle voci di Lariatto motivo per cui era interessante andare a vedere Tokyo Joshi Pro Wrestling e uno di quelli che ha insomma questo desiderio di espandere la propria conoscenza del mondo del wrestling un altro che ha lo stesso tipo di background anzi in realtà va ancora di più di quanto faccia io a scovare cose interessanti magari anche un po' nascoste è proprio Michi che non solo è stato il mio compagno di viaggio là in Inghilterra ma eravamo anche accanto per tutti questi show che abbiamo visto ciao Michi benvenuto ciao grazie mille allora siamo partiti insomma sostenendo il wrestling indipendente l'idea era quella di comprare dei biglietti di alcune delle promotion che avrebbero fatto show all'interno di questo weekend un weekend lungo perché il lunedì dopo All In è festa ora non sono un esperto delle feste inglesi quando ero là non ho chiesto perché in realtà non mi interessava così tanto però era festa e quindi il lunedì abbiamo visto l'evento della Progress un evento che aveva un suo costo aveva una sua ubicazione importante verso cui volevamo andare volevamo vedere questo show questo evento il sabato ci sarebbero state ben due possibilità e attenzione perché in realtà potevamo anche cercare di vedere entrambe le promotion c'erano questo show di Eve e Tokyo Josh e ce n'era uno di Rev Pro il problema dello show di Rev Pro è che per quanto noi amiamo il wrestling per quanto siamo disposti a spendere perché ragazzi abbiamo speso per questo lungo weekend il costo dei biglietti della della Rev Pro sarebbe stato superiore a quello dei biglietti per all-in quelli che abbiamo comprato noi e non ci sembrava il caso oltre al fatto che ci tenevamo tantissimo a vedere le ragazze da Tokyo Joshi che noi seguiamo da anni e quindi caspita è una cosa che seguiamo molto di più e da molto più tempo rispetto a quelle persone che fanno parte della Rev Pro sapevamo che gli show sarebbero stati diversi abbiamo optato per andare solo a questo e Michi direi che la scelta è stata abbastanza facile soprattutto considerando appunto il nostro background da quanto tempo seguiamo la Tokyo Joshi regolarmente? Sì penso dal 2020 2021 non lo so esattamente non lo ricordo però è tanto è stata una delle prime cose che abbiamo iniziato a guardare con con il Wrestle Universe e abbiamo seguito quasi tutto e quindi mi sembrava giusto e anche un po' corretto andare a vedere dal vivo anche se erano poche le ragazze che poi arrivavano in Inghilterra comunque ero curioso di vederle dal vivo capire un po' com'era com'era rapportarsi con loro a pochi metodi perché poi effettivamente eravamo molto vicini abbiamo fatto una scelta particolare quella leggermente attendista nel senso che abbiamo aspettato che uscissero i biglietti e sono usciti così senza che nessuno sapesse niente tanto che ci siamo confrontati con altre persone che sarebbero volute venire e hanno detto non veniamo perché dopo l'abbiamo scoperto dopo due ore e mezza che erano usciti i biglietti e non c'erano più posti a sedere c'erano solo i posti in piedi noi abbiamo detto vabbè fanno due ore di show io sono giovane prendiamo i posti in piedi cioè non c'è grosso problema vedremo quello che vedremo io sono alto 1,70 quindi non è che posso pretendere di elevarmi sopra le teste della folla in realtà quando siamo entrati essendo tra i primi abbiamo fatto una coda di un'ora e venti più o meno essendo tra i primi siamo entrati e c'erano un paio di persone in piedi e a uno ho chiesto guarda la prima volta che veniamo qua dove possiamo metterci in piedi e lui mi dice ovunque basta che non vi mettete davanti a quelli che sono seduti anche perché ovviamente quelli che erano seduti tipo in prima fila erano molto vicini al ring quindi sarebbe stato anche impossibile mettersi lì allora c'era il ring che è quadrato aveva le file sui lati sui tre lati perché un lato era occupato dal palco di questa conway hall arena di cui poi vi parlerà un attimo mickey e sostanzialmente c'erano i gruppi di sedie esattamente dritti verso il ring e quindi sulla zona del palo c'erano dei triangoli che si formavano naturalmente e noi ci siamo messi in quella posizione ma all'altezza della prima fila quindi sì eravamo in piedi ma eravamo in prima fila e quindi abbiamo visto tanto quanto hanno visto quelli della prima fila pagando molto meno e soffrendo poco in realtà perché due ore in piedi uno spettacolo che comunque ti prende e ti fa star bene direi che direi che tutto a posto non ci sono problemi per quelle due ore lì abbiamo fatto il giorno prima camminando per londra tutti i passi del mondo fare due ore in piedi insomma ci eravamo allenati nelle giornate precedenti quindi è andato bene mickey la cornice di conway hall questa sala concerti sostanzialmente sì è piccola molto piccola in realtà però in realtà è funzionale anche ci sta è molto carina anche per un evento di di wrestling ho guardato quest'anno era il primo che facevano lì in generale non solo più in generale in quel in quel in quel arena tra virgolette arena e l'anno scorso avevano fatto qualche altro show delle promotion che non conosco però non è esattamente usata per quello in questa occasione l'hanno sputtata comunque sappiamo che la hip non ha un posto fisso dove fa gli eventi quindi cerca quello a disposizione in quel momento però ha funzionato bella l'idea che in realtà l'abbiamo già visto fare diverse volte quella di avere il ring apparentemente quasi contro il muro in questo caso era contro il palco quindi hai apparentemente solo tre lati liberi e poi c'era la balconata dove alcuni potevano stare seduti in piedi e comunque vedere anche dall'alto che è una cosa molto inglese in realtà che poi abbiamo visto anche all'Electric Ball Home poi vi parleremo nel prossimo video però è stato molto carino come posto e anche per il tipo di evento che comunque era molto amichevole anche per come si sono comportate le atlete avere magari il pubblico molto vicino riesce a rapportarti molto meglio quindi ha fatto un'ottima scelta secondo me l'idea era quella di vedere quindi questo show combinato e non si poteva però esimersi dal notare che non era soltanto Tokyo Joshi presente come sigla di wrestling ma c'era anche un tag team molto interessante composto da un'americana dell'Ohio Max de Impaler e dalla leggenda giapponese Aja Kong che onestamente è per quanto mi riguarda l'ultima grande leggenda di quel wrestling che non c'è più è un wrestling che chiaramente abbiamo imparato ad apprezzare che abbiamo visto nel tempo il wrestling di mazzate di donne che venivano insomma a colpirsi in modo esagerato bump terribili persone morte sul ring lei è stata un po' un collante perché è arrivata molto molto giovane a lottare ai piani altissimi del wrestling giapponese e ha lottato per tutto il tempo della sua vita fino ad adesso e sta andando ancora avanti e sostanzialmente è davvero quella leggenda non ci sono più quelle che hanno fatto la sua epoca sul ring in questo modo così continuo girando così tanto molte magari più o meno di quell'epoca o hanno gettato la spugna o hanno creato delle proprie formazioni delle proprie palestre promotion piccole estremamente minori e stanno lì si sono magari date più al a un lavoro di scouting di nuove nuove leve in modo decisamente inferiore a quello che poteva essere una situazione della Gaea per esempio come avete visto magari nel famoso documentario di cui abbiamo parlato anche nel nostro libro l'Ariatto destinazione pura reso che potete acquistare con il link che trovate in descrizione per cui c'era già Kong io ero emozionatissimo per vedere già Kong la cosa è diventata anche un meme ma non era un meme nel senso che a me interessava veramente vedere lei e godermi quello che poteva essere il suo di spettacolo quindi ero molto contento diciamo così questo mi ha portato ad aver voglia di vedere più di ogni altra cosa questo show uno show che ci aspettavamo molto inglese con poca diciamo attenzione a quello che è normalmente ciò che accade in Giappone perché le ragazze della Tokyo Joshi erano poche si tratta di quattro ragazze nell'ordine Raku Imawari Mairo Kiryu e Mio Yamashita queste ragazze sono l'ho detto in ordine di apparizione quando le abbiamo viste queste ragazze sono ovviamente parte degli show della Tokyo Joshi Mio Yamashita è l'Ace della Tokyo Joshi quindi ci mancherebbe altro però il contesto normale che ci porta questa federazione nipponica è quello di avere una sorta di gioco continuo è molto scherzosa gioiosa la Tokyo Joshi cantano per esempio prima dello show tra le persone che cantano prima dello show c'è anche Raku che era presente qua in Inghilterra e dobbiamo dirvi che con grande sorpresa ma anche grande divertimento dopo aver visto il match del pre-show che adesso vi racconteremo chiaramente Raku ha cominciato a cantare a ballare come se fosse proprio all'inizio di uno show della Tokyo Joshi dove di solito sono in tre o in quattro ma c'era solo lei ho fatto solo lei che poi ha girato anche nel pubblico è passata anche vicino a noi io le ho dato il cinque per dire è stato davvero interessante sotto sotto quel punto di vista perché noi siamo abituati a vederlo in tv non pensavamo di trovarlo qua cioè almeno Michi io non pensavo invece ci ha sorpreso positivamente come ti è sembrato quel momento anch'io non me l'aspettavo soprattutto la parte di lei che gira per il pubblico perché conoscendo comunque anche un po' l'idea giapponese comunque c'è sempre un minimo di distacco è più difficile vedere magari qualcuno che va in mezzo al pubblico dal cinque fa cose quindi è stato molto simpatico quindi ci siamo visti anche la parte iniziale della Tokyo Joshi con la solita canzone che ormai abbiamo visto in tutti gli show ce lo siamo visti anche noi dal vivo quindi possiamo raccontarlo molto divertente sì assolutamente sì prima di questa canzone però c'è stato un match da pre-show ed era un match costruito solo con ragazze della Eve ragazze della Eve non significa che facciano parte solo della compagnia Eve sono ovviamente in Inghilterra tutte freelancer girano dove serve però ce ne sono alcune che ruotano maggiormente intorno a questa compagnia e in questo caso il match il three way vado a vedere per sicurezza altrimenti mi incasino il three way è stato composto da Casey che è una lottatrice che ha una gimmick un po' oscura viso pittato un po' una rosemary per intenderci Anita Vogan e Sky Smithson Sky Smithson che abbastanza idolo della folla ha una gimmick un po' particolare lei di solito viaggia in coppia e ha questa gimmick un po' del sexy anche se poi in realtà loro non sono sexy queste ragazze che però lo stesso fa c'è probabilmente questa cosa molto divertente non la conoscevo non è la mia lottatrice non è diventata la mia lottatrice preferita ha vinto e ha diciamo messo in scacco comunque le altre due in un match che è stato molto al servizio del lasciare tanti uno contro uno cioè molte volte si partiva una andava fuori le altre due lottavano poi rientrava quella una andava fuori e lottavano e si davano molto il cambio tanto che la parte finale è stato un lungo segmento dove solo dove Casey era fuori sostanzialmente quindi solo Sky e Anita sono rimaste sul ring con vittoria poi di Sky per insomma lanciare anche un po' al pubblico un messaggio che i face avrebbero fatto qualcosa durante quella giornata un po' di fanservice che ci sta sempre bene non è venuto male non è stato lunghissimo credo che abbia raggiunto l'obiettivo che si era preposto e mi è arrivato Miki sì come match del pre-show come dark match va benissimo non hanno trafatto ma hanno provocato un buon incontro molto legato poi appunto al pubblico non è una cosa che a me piace tantissimo quando diventano una serie di uno contro uno preferisco quando effettivamente scasano tra l'ottatrice tutte e tre nel mio testo non essere sul ring per giocarsela un po' di più l'hai fatto anche per proteggere un minimo magari Casey comunque da quello che abbiamo capito poi ne parleremo ha una storia comunque da raccontare quindi l'hanno un attimo tolta da quell'incontro ha perso senza perdere per un motivo hai fatto vincere quella comunque appunto da quello che abbiamo visto era abbastanza un po' la pace di turno e quindi va benissimo così come match del pre-show ha funzionato ha fatto il suo decisamente si mi è andato di traverso la saliva mentre stavo per parlare va bene va bene va bene il match successivo invece è stato un match solo Tokyo Joshi dove abbiamo visto Mairo Kiryu e i Mawari a lottare una contro l'altra amichi subito ti chiedo i Mawari e il suo rapporto col pubblico è stata una delle cose che ci ha colpito di più e che ci ha reso ovviamente divertente il tutto in un match che non si può dire ovviamente chi era Face chi era il perché no forse un po' quella cattivella avrebbe dovuto farla i Mawari ma non c'è stato verso non c'è stato modo ci ha divertito molto non solo noi ma immagino tutto il pubblico e anche lei come c'è come si è sviluppato il rapporto tra questa ragazza e chi sotto inneggiava il suo nome si è stato molto divertente perché ogni volta che qualcuno del pubblico volava il nome di Mawari lei rispondeva quindi è stato un lungo segmento all'inizio del match con un sacco di gente del pubblico che la chiamava e lei che rispondeva ogni volta quindi è molto molto simpatica molto nello stile Tokyo Joshi secondo me lei funziona molto l'ho detto già in tanti lariatti in realtà lei lotta da poco lotta da un anno un anno e mezzo però funziona molto nell'ambiente della Tokyo Joshi anche come tipo di personaggio come tipo di più movenze come come ci sta all'interno di quel mondo anche qua visto che non è comunque nel suo nel suo ambiente nel suo nel suo abito è riuscito comunque a far fare molto bene con il pubblico dall'altra parte aveva Mairo Kiryu che in questo caso faceva quella con più esperienza avrà sei mesi in più eh no no di più faceva la la senpai di turno però diciamo che se devo scegliere quella brava probabilmente Imawari ha perso sì proprio per via dell'esperienza poi è quella che in realtà si porta anche un po' dietro tutto l'incontro è venuto bene molto nel stile Tokyo Joshi e il pubblico ha apprezzato molto quindi sono contento anche per quello ha portato un po' di parte giapponese all'interno del dello show era comunque l'unico match tutto giapponese e quindi hanno cercato di portare a casa un po' quello che è lo stile della Tokyo Joshi riuscendoci molto bene secondo me anche sono d'accordo l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che Imawari è veramente piccola cioè è veramente minuta a un certo punto durante la serata è venuta quando c'è stato il match di Miyu Yamash da farle da seconda in realtà tutte le giapponesi sono arrivate perché c'era un match un po' importante sapete se guardate il Giappone sapete che diciamo nelle compagnie di maschi normalmente ci sono dei ragazzi che possono essere o della palestra Young Lion per la New Japan per intenderci e alcuni lottatori sempre intorno al ring perché non si sa mai quello che può succedere le quattro ragazze giapponesi quando c'era Miyu Yamash che aveva il match importante quello complicato anche se vogliamo si sono messe tutte intorno a un certo punto è venuta vicino a noi era davvero piccola cioè quando si è accovacciata a terra cioè sembrava uno zaino era molto piccola ma davvero piccola piedi molto piccoli per esempio queste scarpine minuscole boh fa strano vedere poi comunque si menano fanno le scene cioè è bello però mamma mia che piccola che è mi ha fatto proprio l'impressione dell'essere minuta e quindi niente era una nota che volevo aggiungere abbastanza simpatica il match successivo invece una sorpresa nel senso che è stato un match diciamo gestito dal sì diciamo gestito dalla Eve con una ragazza che fa parte spesso della Eve Alex Windsor che avete visto anche in All Elite per esempio in tante altre promotion inglesi perché poi è la fidanzata di Will Ospre quindi di base ha lottato contro una ragazza che lotta da poco tempo in realtà e che è in giro quest'anno per imparare che è Lena Cross una ragazza che viene dall'Australia e che ha deciso quest'anno di puntare un po' di più sia su di sé che sul lavoro da wrestler e onestamente si è visto il frutto nel senso che ha lottato molto bene è vero che sei contro Alex Windsor che sappiamo essere molto molto brava però ragazzi poi bisogna farlo il match e l'ha fatto molto bene ha perso Alex Windsor ha vinto ad Alex Windsor è stato dedicato uno dei core più belli di tutta la serata che non saprei ripetervi ma mi ha divertito molto e direi che qui abbiamo visto in realtà la qualità un po' più british un po' diversa rispetto a quella che vediamo in Tokyo Joshi bei colpi uno striking fatto bene bellissima presenza di entrambe sul ring che riempivano bene l'atmosfera qualità alta qua 12 minuti di gran match Miki si è entrato su un ottimo incontro proprio per cambiare anche lo stile rispetto a i due prima c'era questa divisione di stile di incontro è una cosa che ho apprezzato l'incontro è venuto bene sono due atlete piuttosto valide nella cross io l'ho visto veramente poco ho visto un paio di incontri in Sendai che era un paio di mesi fa mentre era in tour proprio con Nina Samuels quindi probabilmente l'aggancio con Nina Samuels l'ha portata poi anche in Inghilterra per questo mese e con Alex ha fatto un ottimo incontro ovvio ha vinto quella che è più di casa e comunque anche quella più conosciuta quella che era anche più indaffata in questo weekend perché poi ha lottato anche nello stesso giornata anche in Repo quindi ha finito questo incontro e si è spostata poi nell'altra arena per fare il suo match in Repo però ho stato soddisfatto dell'incontro mi aspettavo qualcosa di carino però ho stato sorpreso perché è venuto fuori secondo me veramente veramente bene un sacco di mazzate anche belle potenti schiaffoni che si sono sentiti e che poi quel silenzio si sentono veramente tanto se poi se ripente ha un passo dal dal da Bing li senti ancora meglio quindi bello bello sì 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 sono d'accordo sono d'accordo il match successivo invece è stato un match inter inter promozionale praticamente dove Raku ha lottato e vinto contro Session Martina ora Raku è una ragazza che fa del gran comedy Session Moth Martina fa anche del gran comedy insieme avevano fatto un match Mickey si è andato a recuperare anche un po' di informazioni l'avevamo visto match fatto negli Stati Uniti in uno scontro ad aprile sempre in Tokyo Joshi tra le due che però aveva avuto un piccolo problema tecnico sì era nel nel weekend di Castlemania avevano fatto questo incontro era tipo Tokyo Joshi GCW e avevano fatto questo questo match che ha durato molto poco in realtà Session Moth Martina gli si è rotta la scarpa tipo durante l'ingresso quindi ha fatto quei 5-6 minuti di incontro con quasi senza scarpa in quel caso aveva vinto Martina qua hanno voluto rifare il rematch in realtà loro due si trovano molto bene secondo me per il tipo di approccio che hanno anche per il tipo di gimmick funzionano un sacco con una che va in giro con il cuscino e quando cerca di far dormire o dormire nel caso dall'altra hai Martina che è irlandese quindi porta un po' questa idea di quella che fa un po' valdoria e quindi il fatto che poi si addormenti funziona anche molto per quello e si sono trovate bene hanno fatto un incontro molto sul comedy con effettivamente poco lottato perché di dimostra ne abbiamo viste veramente poche poi è stato bello racconto e in questo caso ha vinto ha vinto Raku quindi al momento sono uno a uno potrebbe esserci la bella a un certo punto vediamo come andranno le cose però mi ha divertito molto anche qua il pubblico è molto partecipe si decisamente decisamente partecipe Raku anche assaggiato la birra non le è piaciuta mentre invece Session Moth Martina non solo si è addormentata ma è rimasta sul ring a dormire anche dopo e nel post match è successo qualcosa di importante perché vi abbiamo parlato del pre-show con Casey che aveva lottato nel 3-way iniziale Casey esce e di base va a parlare a Session Moth Martina la quale non risponde mai è praticamente un monologo un invito però da parte di Casey a Session Moth di cambiare il suo stile il suo modo che dice noi siamo qua dall'inizio sono 12 anni che siamo qua e lavoriamo sodo ma le altre sono andate più avanti non pensi sia ora di cambiare qualcosa e Martina non solo ha lasciato la birra sul ring quindi non la presa su ma l'ha anche seguita con uno sguardo che ci lascia presagire quello che potrebbe essere un cambio di gimmick forse mica il primo nella storia di questa ragazza che chiaramente dopo tanti anni si potrebbe ritrovare coinvolta in un modo un po' diverso di vivere il wrestling e potrebbe essere molto interessante ci ha un po' sorpreso ci ha un po' colpito sicuramente farà parte di quelle storie che sono disponibili se non sbaglio con gli abbonamenti al canale youtube della Eve poi gli show si dovrebbe esserci l'abbonamento su youtube non so se li caricano tutti in diretto se qualcuno viene caricato dopo però si possono seguire su youtube sono curioso di capire un po' come andrà il percorso di Session of Martina perché in realtà l'abbiamo seguito un po' anche con alcune cose in stardom alcuni passaggi è uno di quei nomi che ho sempre sentito e poi ho sempre visto più o meno con questa gimmick quindi ci sta anche un cambio sono comunque 13 anni che lotta dal 2011 a 33 anni potrebbe effettivamente essere il momento magari di cambiare un po' gimmick e vediamo come andranno le cose la curiosità c'è e ci siamo visti anche questo inizio di storyline che non me l'aspettavo in un evento del genere comunque era più showcase come tipo di evento divertente invece molto divertente il match successivo il penultimo match dove Aja Kong e Max De Impaler hanno battuto Saphir Reed e ZZ Saphir Reed e ZZ che hanno lottato molto bene e hanno impersonato quelle che erano spaventate ovviamente dalle due più grosse e che hanno cercato in tutti i modi di vincere nonostante le grosse difficoltà bello anche qua molto divertente molto scanzonato si è respirato molto il sapore il profumo di Tokyo Joshi un po' in tutto anche in quelli che sono stati i match più diciamo importanti qua era mezzo comedy ma divertentissimo con anche qua ritroviamo una ragazza che ha fatto parte del pre-show Sky Smithson è uscita e ha impedito alle due avversarie di Max de Impala e Reagia Kong di scappare loro volevano scappare andare via non volevano lottare invece lei è uscita e le ha rimesse un pochino in sesto anche perché ovviamente non so se hanno avuto trascorsi precedenti o se invece anche qua è l'inizio magari di qualcosa per il futuro quelle due sono una coppia e Sky come vi dicevamo fa parte di un tag team quindi in realtà ci può essere anche o una ruggine vecchia o magari il desiderio di fare qualcosa di bello in futuro divertente simpatico ho visto Jack Kong in forma terribile ho visto Max de Impala che è incredibile Max de Impala come dimensione come modo fantastica da tanti punti di vista e e sono uscito contento non mi aspettavo il meccione mi aspettavo una cosa simile a questa e le parti fatte dalle due inglesi sono state molto belle molto divertenti vince ovviamente la leggenda come ci spiegherà poi il marito della fondatrice di Eve a Jack Kong è il motivo per cui esiste la Eve nel senso che a Jack Kong trascende come vi dicevo all'inizio il concetto di wrestling femminile e quindi giustamente chi oggi ama il wrestling femminile molto probabilmente è passato per quella all japan per quella gaea per tutte quelle situazioni in cui a Jack Kong ha fatto tanto e ha dimostrato di essere veramente una delle macchine da guerra più importanti del mondo joshie micchi direi che è andato tutto più o meno come doveva andare con anche ovviamente un risvolto interno grazie a sky sì sì non dovevi aspettarti il meccione con le super mosse il mirror fall dovevi aspettarti un match molto simpatico divertente raccontato bene ed è effettivamente quello che hanno fatto hanno lavorato bene in realtà tutti e quattro sia le due inglesi che dovevano fare quelle che avevano paura ma che in qualche modo dovevano riuscire a combattere questa paura per essere sul ring e affrontare due giganti perché sia Jack Kong che Max Tainbauer sono veramente imponenti sul ring e l'hanno fatto bene dall'altra parte la coppia ha funzionato quella di Jack Kong e Max Tainbauer molto simpatici molto simpatici anche loro due quindi è stato stato divertente anche Jack Kong non me l'aspettavo così pronta anche a parlare a fare battute cose balletti ha fatto anche dei balletti che è una cosa che non mi sarebbe aspettato da Jack Kong le ha fatte quindi me li tengo e sono molto felice di averlo visto però ha fatto carino come match ce lo siamo parli a casa e ci siamo visti a Jack Kong era la cosa principale anche di questo show assolutamente assolutamente che poi capiterà così tanto di vedere Jack Kong dal vivo esatto e non perché smetterà presto perché lei pare che non abbia proprio intenzione di smettere ma già adesso è praticamente immobile dall'86 no da quando è che l'ho è da prima mi sa c'è stato tutto il segmento finale che vi dicevo con Sky che è arrivata a non consentire alle inglesi di scappare a Jack Kong in tutto quello è rimasta sul ring ad aspettare che se fosse scesa ora del rientro sarebbero passate probabilmente 7-8 ore e quindi già salire sul ring è stata un'impresa scendere per poi risalire anche no quindi volevamo vederla finché è in condizione almeno di camminare sulle sue gambe detto questo c'è il main event poi dove Mewi Yamashita ha fatto un assalto al titolo di Nina Samuels un titolo che Mewi Yamashita in realtà ha già posseduto che è ritornato per una serie di ragioni a Nina Samuels hanno fatto un match insieme e che ovviamente era un po' il clou della serata ed effettivamente Mickey è stato anche quello più combattuto da un punto di vista anche del modo di interpretarlo è stato un po' il più lungo della giornata insieme a quello di Lena Cross e Alex Winsor direi che qui abbiamo visto proprio la qualità e vedere Mewi Yamashita dal vivo era una delle cose che avrei voluto fare l'ho fatta e quindi anche questo insomma lo vado a mettere nei ricordi indelebili e nel fatto che siamo riusciti a incastrare un evento che è unico nel suo genere come spiegava appunto alla fine di tutto il marito della fondatrice di base è stato il primo vero show organizzato insieme voluto tantissimo da Mewi Yamashita con il main event con dentro Mewi Yamashita insomma è stato veramente bello ed emozionante tra l'altro Nina Samuels mi è piaciuta molto sia nell'atteggiamento e rapporto col pubblico che in realtà sul ring è stata molto interessante tanti non l'apprezzano così tanto io invece devo ammettere che l'ho trovata molto molto valida almeno per quello che ha fatto in questa occasione in realtà anche quello che ha fatto in progress ma ne parleremo poi a tempo a debito Miki si sono trovate molto bene su ring hanno tirato fuori un po' il meccione della serata anche a livello di minutaggio cioè è durato 20 minuti più o meno quindi era anche quello più combattuto quello dovevi dare anche molto ed effettivamente quello che hanno tirato fuori è stato molto molto bello non è più la Mewi Yamashita di qualche anno fa però è salita su ring con una concentrazione molto forte anche nello sguardo nell'atteggiamento e la ponta di prendersi quel titolo e poi dall'altra parte aveva una nina Samuels che è ponta ad incassare ma anche a dare molto e quindi è venuto fuori il match quello che esce un po' dal discorso Tokyo Joshi effettivamente perché il livello proprio del dell'ottato si è alzato molto e non c'è stato niente di comedy o simil comedy proprio un resting puro e molto bello è venuto molto bene come main event giusta secondo me la vittoria di Nina Samuels perché comunque l'ha tenuto per molto anche Mewi Yamashita ha già fatto un regno che è durato più o meno un anno quindi ha già fatto tanto con quel titolo e visto che comunque poi è vero che sta girando un po' fuori dal Giappone però è giusto anche lasciarlo a Nina Samuels che è sempre di fissa quindi ha anche più occasioni per fare cose ma al massimo ci sarà un'altra occasione per rivedere un match tra loro due visto che comunque da quello che ci hanno fatto capire c'è dietro una storia anche abbastanza importante una rivalità che può andare avanti per un po' decisamente può anche essere abbandonata magari nei momenti in cui Mewi Yamashita è più in Giappone e è ritirata fuori all'occorrenza senza grosse difficoltà questo è stato un video prima del match per spiegare un po' la storia perché mettiti che qualcuno tipo io che ne avevo seguito tutti gli show non sapevo bene come era ma hanno fatto per noi eh? ma hanno fatto per noi sapevo anche eravamo lì in prima fila per noi due c'è questo video recap della faida così almeno si è capito anche meglio poi il racconto sul ring e lo storytelling che hanno portato a livello di luttato decisamente sì decisamente sì questo è stato un po' lo show della Eve che abbiamo visto insieme a Tokyo Joshi Pro Wrestling è chiaro è evidente che qualora tornassimo sul suolo inglese e ci fosse la possibilità di andare a vedere la Eve ci andremmo è stato un bello show costruito bene organizzato bene sono addirittura passati per dare una mano alla la possibilità delle persone di defluire di entrare in modo più agevole sono passati precedentemente all'apertura dei cancelli a fare il check dei biglietti per darci il come si chiama il braccialetto che diceva qual era la nostra posizione se eravamo seduti in prima fila se eravamo seduti seconda terza fila di sopra se eravamo in piedi ne abbiamo avuto quello rosa di chi sta in piedi e ci siamo visti alla stregua di chi aveva il biglietto in prima fila quindi se l'anno prossimo andiamo di nuovo a vedere se l'anno prossimo sono ancora alla Conway Hall se ci sono queste condizioni probabilmente sappiamo già tutto quello che ci serve per entrare e divertirci all'interno di uno show della Eve bella l'atmosfera le ragazze sembrano veramente belle serene sorridenti felici e questo ci piace una delle cose belle di andare a vedere il wrestling dal vivo è che puoi avere questa sensazione capire se è bello o brutto l'ambiente quell'ambiente quello della Eve per come l'abbiamo visto per come si sono poi dimostrate le persone per come si sono poi portati avanti anche i ragionamenti dopo quando sono salite la maggior parte delle atlete sul ring che hanno salutato devo dire che l'atmosfera era veramente molto bella si stava bene quindi pollici alzati bene micchi direi che per oggi è tutto occhio perché tra qualche giorno faremo anche la review di progress dello show che abbiamo visto il capitolo 170 con un sacco di cose che sono capitate e ovviamente vi invitiamo a seguire anche quello per concludere anche un po' il nostro escursus delle compagnie di wrestling che siamo riusciti a vedere in questo weekend molto intenso molto bello e molto ricco anche di emozioni vi ringrazio ovviamente per aver seguito se volete lasciare un commento se volete scriverci magari le vostre sensazioni se avete visto lo show se lo guarderete se vi abbonerete per esempio al canale youtube noi siamo pronti a rispondere e a fare conversazione se avete delle domande dei dubbi ovviamente siamo qua anche per questo nel frattempo io ringrazio amici per aver partecipato e aver portato le sue opinioni grazie a te è stato un piacere vi ringrazio tutti ci sentiamo ovviamente alla prossima grazie a te